Lo spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato e mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri, a dare la vista ai ciechi, a restituire la libertà agli oppressi, a fasciare le dirite del cuore e a proclamare l'anno di misericordia del Signore. Oggi, nelle vostre orecchie, le scritture si sono compiute.